partiti e in vantaggio Hot Calité davanti a Nayef Dancers, Batantra Steaming Kitten Supermat Freedom Holder e New Applause dopo 300 metri di corsa si assesta al comando Hot Calité davanti a Nayef Dancers con all'esterno Svatantra seguono Steaming Kitten Supermat Freedom Holder e New Applause prosegue in vantaggio Hot Calité davanti a Nayef Dancers sempre con all'esterno Svatantra a seguire Steaming Kitten Supermat New Applause e Freedom Holder all'inizio della curva è sempre in vantaggio Hot Calité davanti a Nayef Dancers Svatantra Steaming Kitten Supermat Fido Molden e New Applause poco prima dell'ingresso indirittura conduce Hot Calité davanti a Svatantra Nayef Dancers e Steaming Kitten e Steaming Kitten i cavalli entrano indirittura con Hot Calité in leggero vantaggio lungo la corda davanti a Svatantra Steaming Kitten Nyeef Dancers Nyeef Dancers Freedom Holder Supermat New Applause in vantaggio Hot Calité davanti a Svatantra Steaming Kitten a centropista Freedom Holder Nyeef Dancers è sempre in leggero vantaggio Hot Calité attaccato a centropista da Steaming Kitten passa Steaming Kitten davanti a Hot Calité Svatantra e Freedom Holder si avvantaggia Steaming Kitten davanti a Hot Calité e Svatantra 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 Grazie. Grazie.